Dario Biuso Un momento veramente importante, una realtà ormai penso solida. Io è il secondo anno che partecipo al campus, sono venuto l'anno scorso e vedo veramente una grande euforia, un'energia delle ragazze e i ragazzi che partecipano. Questo è frutto del vostro lavoro, è frutto di un'organizzazione seria fatta di grandi artisti e date la possibilità ai ragazzi di esibirsi, di esprimersi, di studiare che è la cosa più importante nella danza. Le tue lezioni sempre piene, i ragazzi escono dalla sala sempre tutti entusiastissimi praticamente. Sì, questo mi fa piacere perché li metto cuore e passione e cerco di lasciare qualche cosa, poi a parte il passo di danza, cerco di farli esprimere al massimo, di lasciarle libere e ognuno di loro deve riuscire a trasmettermi qualcosa. Le lezioni sì, sono sempre piene, ho fatto lezione ieri, ne farò altre due domani e niente, mi fa piacere di questo. Insomma, quattro giorni full immersion nella danza, danza sportiva, danza accademica, abbiamo il fitness e tu ti occupi esattamente di quella disciplina? Io faccio danza contemporanea, come hai detto tu è bello appunto per questo perché si passa dal classico al contemporaneo, al moderno, al latino, alla videodance, quindi all'hip hop, quindi è un miscuglio di tutte le tipologie di danza, proprio le mettete tutte insieme. E questo è bello perché studiano, si divertono, poi è una vacanza studio, si divertono anche perché mettete a disposizione anche una location veramente molto adeguata. Quindi insomma, noi all'altezza vostra. Sì, sì, sì. Benissimo, noi siamo orgogliosi di avere professionisti come te e ci auguriamo di poter collaborare ancora negli anni e nelle prossime occasioni. Il piacere è tutto mio, grazie. Ciao ragazzi. Grazie a te Dario, ciao. 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 No, no, no. So, l'entretico è di Giorgio, che è di Giorgio.